Quattro giornate all'insegna del buon cinema in corto, ma anche della festa e del divertimento, quelle appena trascorse in compagnia di cortina metraggio. Anno dopo anno, prestigiosi ospiti, attori e registi tornano a cavalcare il palco del cinema Eden, portando le ultime novità del mondo del cinema. Riconfermata madrina del festival e presentatrice delle serate, la bella Fiammetta Cicogna. Accanto a corti comedi, anima prima di cortina metraggio, molte altre sezioni in gara per questa edizione 2014, tra queste Instagram e le web series. La novità è proprio di portare quello che è sul web, portarlo sul grande schermo, ed è veramente emozionante vedere le reazioni dei registi che vedono, prima da uno schermino piccolo, che può essere quello dell'iPhone o del portate, del tablet, o comunque di un computer, vedere il loro lavoro proiettato su uno schermo grande di un cinema. Altra novità di questa edizione nelle sale dell'hotel Ancora, anche Infopoint del festival, una mostra davvero speciale, tutta dedicata al red carpet, Star Attitude. Le mie foto non sono foto di montagna, ma sono foto di cinema, e quindi ho cercato un po' l'occasione giusta e mi sembrava un'ottima occasione, perché ho inserito le mie foto in un festival comunque di cinema, in una città come Cortina, che è stata tante volte set di cinema e che tante volte ha ospitato i protagonisti. Tra un corto al cinema ed un evento speciale, gli ospiti si sono intrattenuti con raffinate cene e colazioni per assaporare al meglio il gusto del cinema in ogni suo aspetto. in un clima di spensieratezza che da sempre contraddistingue il mood di cortinametraggio.